I contagi sono molto concentrati nell'ambito familiare, quindi se lo prende il bambino lo attacca ai genitori o viceversa, come mai secondo lei? Il fatto che il contagio sia familiare è perché all'interno della famiglia non si utilizzano i dispositivi di protezione. Il fatto di avere un figlio caso per Covid significa che i genitori devono indossare la maschera protettiva. Il bambino deve comunque rimanere isolato il più possibile e i contatti tra i genitori e il bambino devono essere sempre mediati da dispositivi di protezione individuale. In generale il contatto familiare è una delle cause dell'incremento di questa epidemia. La soluzione a questo è sicuramente l'albergo sanitario. La situazione su Arezzo è critica rispetto alle altre zone della Toscana e della stessa Asla Toscana sud-est, perché la provincia di Arezzo sembrerebbe essere l'unico territorio provinciale in cui non abbiamo la disponibilità degli albergatori per offrirci un albergo sanitario. Devo anche dire che abbiamo fatto e stiamo facendo anche adesso una richiesta di disponibilità per vedere se troviamo qualche albergatore della provincia di Arezzo disponibile a mettere a disposizione alla Asla una struttura alberghiera per accogliere i soggetti che al proprio domicilio sarebbe bene non stessero in quanto affetti da Covid-19.